Anche quest'anno la parrocchia di San Francesco d'Assisi, retta da Don Giorgio Cilindrello, aprirà le prove porte alla tradizionale ricorrenza della cena di San Giuseppe, prevista per domenica 19 marzo. Tradizionale ricorrenza molto sentita e molto importante per le famiglie gelesi di origini secolari, il cui scopo è ringraziare Gesù Cristo per una grazia ricevuta offrendo carità e cibo a gente bisognosa. Come da tradizione, la cena aprirà le porte al pubblico il giorno 18 marzo alle 12 per permetterne la visita fino a mezzanotte. Alle 22 i gruppi parrocchiari animeranno una veglia di preghiera in onore di San Giuseppe. L'indomani, il 19 marzo, seppur festivo, si permetterà a gruppi o scolaresche di visitare la cena e i componenti del comitato Procena si adopereranno per illustrare ai bambini le caratteristiche salienti di questa tradizionale ricorrenza. Alle 12 ci sarà il momento in cui la Sacra Famiglia arriverà dinanzi al portone e busserà per tre volte. Alla terza volta sarà loro spalancato al portone e si accomoderanno nella cena allestita per soddisfarli gustando le caratteristiche pietanze locali preparate per l'occasione. Tutti coloro che vorranno dare un contributo personale potranno farlo presso gli uffici parrocchiali nei pomeriggi di questa settimana o a partire dal 17 marzo alle 11 quando saranno allestiti gli altari direttamente in chiesa. Intanto nella chiesa di Sant'Agostino dove si viene da San Giuseppe sabato 18 marzo alle 20.30 il Vescovo della Diocese di Piazza Almerina, Monsignor Rosario Gisana, presiderà la celebrazione eucaristica per la festa del papà. Nella salone della chiesa verrà allestita la tavolata dei pani di San Giuseppe. La chiesa e la tavolata rimarranno aperte fino alle 2.00. Domenica 19 marzo alle 8.30 è prevista la messa. Alle 10.30 la celebrazione eucaristica dei patriarchi sarà preseduta da Don Vincenzo Cultraro, parroco della chiesa madre di Gela e alle 18 messa con la benedizione dei papà e la distribuzione del pane benedetto. Lunedì 20 marzo alle 18 si concluderanno i festeggiamenti con la celebrazione eucaristica di ringraziamento. La venerazione a San Giuseppe anche quest'anno si rinnoverà la prima domenica di maggio con la festa esterna.